Quando sette mesi fa partì dalla Lorena, Diana Kennedy non avrebbe mai immaginato di giungere nella città natale di Aldomoro a poche ore dal più grave attacco terroristico della storia della Francia. Sono come tutti sotto il shock di quello che è successo nel mio paese, a Parigi. Io sono venuta per una vittima del terrorismo e ci sono anche altre vittime del terrorismo. Non si ferma mai questa storia, non si ferma mai. Un pellegrinaggio, quello compiuto dalla fumettista e scrittrice tedesca trapiantata in Francia, lungo 2400 chilometri, percorsi a piedi in compagnia del suo inseparabile asino. Destinazione finale maglie, comune nel quale lo statista ucciso dalle BR, nacque il 23 settembre del 1916. Per me è una figura molto ispirativa, era una grande statista, ma anche un uomo molto speciale perché è molto dolce, molto mite e qualcuno di essenzionale. Un santo? Forse sì, è possibile. Accolta dal sindaco Ernesto Toma, Diana Kennedy si è fermata per un momento di raccoglimento davanti alla stato del politico prima di recarsi al Museo Civico di Paleontologia, inaugurato nel 1965 dallo stesso Moro. E in nome anche di Diana Kennedy riusciamo a unificare l'Italia con la Francia in questo particolare momento, un momento di stragi assurde che non sappiamo dove ci porteranno.